Da appena due giorni la giunta municipale di Piedimonte Etneo ha approvato tramite delibera la proposta di affidamento incomodato d'uso gratuito dei locali della scuola primaria della frazione di presa al Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Siciliani. Da anni infatti la scuola di presa è lasciata in stato di abbandono, un vero peccato per una struttura immersa nel verde che gode di una posizione particolarmente favorevole. Il sindaco di Piedimonte Etneo, Ignazio Puglisi, sottolinea che l'iniziativa è nata dall'indicazione del vicepresidente del Consiglio Comunale nonché delegato sindaco alle frazioni, Maria Lucifora, che da sempre crede nelle grandi potenzialità di frazioni gioiello come vena e presa. Gli scout hanno richiesto la concessione dei locali della scuola incomodato d'uso gratuito per un anno. L'ex scuola primaria verrà in tal modo adibita a casa di caccia, sede per lo svolgimento di campi estivi ed invernali che prevedono attività di formazione, incontri con gruppi provenienti da altre città o dall'estero, conferenze, meeting e molto altro. Gli scout prenderanno parte ai campi estivi ed invernali e saranno accompagnati e guidati da adulti. Le attività svolte, oltre ad essere principio di educazione alla fratellanza, alla collaborazione, alla pace e alla serenità del pensiero e delle azioni fra i giovani aderenti, sarà anche motivo di incremento e rivitalizzazione della frazione di presa che grazie alla presenza di gruppi giovanili e delle relative famiglie avrà un input positivo in termini turistici. L'amministrazione, dal canto suo, non dovrà sostenere alcuna spesa per la sistemazione e il pagamento delle spese che ne deriveranno. Come consumo d'acqua, riscaldamento e elettricità della struttura che si intende concedere all'associazione stante che quest'ultima provvederà alle incombenze economiche. Si tratta di un'iniziativa che valorizza beni esistenti e inutilizzati appoggiandosi ad un'associazione universalmente riconosciuta che non ha bisogno di presentazioni e ha dichiarato il primo cittadino. Riqualificando strutture delle frazioni si può al contempo fare qualcosa per la crescita e la formazione dei giovani il tutto all'interno di un contesto naturalistico di primo ordine. Sarà un'occasione per rivitalizzare le frazioni di bene presa grazie all'ingente numero di persone che vi confluiranno. Il comune, inoltre, non dovrà sostenere alcuna spesa perché i costi di manutenzione della struttura saranno interamente a carico dell'associazione Scout. L'edificio verrà pertanto sistemato e ripulito a costo zero, continua il sindaco Puglisi. Ci sarà un ritorno sia a livello sociale che economico. Bene presa, sono estremamente vivibili. In estate, posizionati a 7500 metri sul livello del mare, godono di un'ottima temperatura, un'aria limpida senza smog e inquinamento. Altro punto di forza è la vicinanza al centro abitato. E' la posizione privilegiata trovandosi a mezz'ora dall'Etna, patrimonio dell'UNESCO, e a dieci minuti dai Monti Sartorius, sopra Vena. Ha concluso il sindaco Ignazio Puglisi, che ci tiene a ringraziare l'impegno del delegato sindaco alle frazioni Maria Nucifora, evidenziando che la proposta è stata fortemente sollecitata dal vicepresidente del Consiglio Comunale, che in qualità di delegato alle frazioni ne conosce a fondo criticità e punti di forza.